Shoah, necessità della memoria. Questo è il titolo dell'evento organizzato dall'amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi per il giorno della memoria con la partecipazione della comunità ebraica di Firenze e delle classi della scuola media Uonofre di Castiglion Fibocchi. Nella sala del Giglio dopo i saluti del sindaco Salvatore Montanaro l'incontro con Umberto Di Gioacchino della comunità ebraica di Firenze e con gli studenti della scuola media di Castiglion Fibocchi. Nel corso della mattinata l'omaggio al libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, ai ragazzi della terza media, per l'occasione sono stati eseguiti i canti della tradizione ebraica e letti alcuni brani dal libro Se questo è un uomo. e la terza media alla richiesta... ...accarate a volare come la rope. Grazie a tutti.